Dite no Vedete ragazzi Alice ha molto Queste sostanze Queste sostanze la fanno laggare Ragazzi se non volete laggare Se volete una 200 mega ragazzi Non usate le droghe Dite no Come dice Topolino in questa immagine Dite no Dite no alla droga Per favore Pensate alla vostra connessione Come Alice? Vedete amici cosa succede Ma Ketty Ma Ketty che regala la sub A Squeezy Cheddar Cosa Ketty Ma sei matto Oh no ragazzi Alice è rallentata Alice è rotta E' tutto surreale Amici intanto vi farei vedere il gioco Sto muovendo Ragazzi io può essere che forse Durante la live Fuggisca Dove vai Marco? Fumi A morire Marco fumi? Si Cosa Io mi faccio uno spinello di cultura Però me ne manca una Sono alberge del donatore Vai Ale Vai 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 Ce ne sono tanti Stasera senza la sub C'è da Darko Dragon Killer Ci sono C'è da Abda Stasera? Sì 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 Ciao Abda Ciao Abda Allora Siamo su Scusa oggi sarò poco attivo Perché sto male Che cazzo avete fatto ragazzi No abbiamo fatto cose belle Come no Ale C'è Darko C'è Dragon Killer C'è Abda Scusa 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 Allora Poi ti manderemo una porciata Delle opere d'arte del signor Due Pippo Possiamo vedere che il gatto si è Trasformato Ha scelto un Un percorso di vita Diciamo All'insegna All'insegna della Della delinquenza Come potete vedere Ha scelto ad andare a scuola Poi ha preso la via dell'alcol Esatto 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 Poi possiamo vedere Che Due Pippo ha Ridisegnato Lo stemma Del partito comunista La falce e il pisello La falce e il pisello Con una stella sopra Che ha avuto Un incidente stradale Immagino Sì Abbiamo poi Un fungo Con delle rocce Sì Un fungo pop Con Che sta Sì no Che sta dirigendo L'orchestra Come potete vedere Esatto Poi Sesso gratis Con un numero di telefono Che credo sia quello Di Due Pippo Non lo so Ora controllo Con anche l'X Di chi è il numero di telefono? Oh no Lo scuro cercetto Cazzo Quello di Due Pippo Oh no In 60 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 Il telefono Poi La mia testa Ti scuro C'è Ma Poi c'è Cerchio Cerchio Malandrino Scostumato Maledetto No Finolio 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 No Alice Stavi giocando Ad Outlast No c'è un libro Che si chiama così Fanno le croci Si chiama Outlast Amici avete tutti Preso Un altro libro Il libro Si chiama Outlast La cultura fa male Dicevo No amici Ragazzi Se prendete La di parola Sappiate che la colpa Non è nostra Bensì Andate sotto Al canale dei controlli M E prendetevela con loro No 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 Allora Ricordiamo ragazzi Che noi siamo contro L'uso di sostanze Buffe Ah No ho mosso quella sbagliata Che noi siamo contro Gli M Cosa? No No Oh no Sto allagando Sto allagando Meno male caragato Ti sa le croci Di rimanere al libro Impegnavo le moltiplicazioni Siamo contro gli M Contro gli M Invece di contro le M Ok Allora Avete tutti presente Come si gioca A Exploding Kittens Giusto? Allora Praticamente È un gioco che si fa In Vai in un gattile Bendato Guidando Guidando bendato Con I petali No no Senta Ti puoi seguire Bendato E vince Chi ha più Peli E parte I corpore di gatti Attaccati Agli più amatici Allora Signorina Alice Abbiamo un problema Sì Siamo sei No Siamo cinque Il problema Alice È che io non so contare Capito Alice Alice Oh no Aspetta Cosa Siamo cinque Sì Quattro gattini Sì Eh Supporto 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 ci dona Un fiorino e mezzo E ora vediamo Cosa ha detto Ci dice Alice Connettiti apparecchiata Però No Senti supporto Io sono tornato Da una giornata Molto difficile Sono scottata E rosolata Con un bel Pancaret 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 Il panarfè No è quello Che mangio Arte Un'altra ho visto E quindi E quindi No Sono stanco No Ragazzi oggi ho avuto Una bella Avventura LoL Stavo Iniziando Con un mio amico Quindi Amici Non me ne dire Ma sono già gli otto E non stiamo giocando Ma io sto distribuendo Le carte Allora Ma sì Oggi Stavo giocando A LoL A casa di Minico Stavo facendo vedere Come si giocava Gli spiegavano Le varie cose L'avevo cominciato Mila Con Veigar Sì sì Proprio Da buon maestro Soprattutto E Facciamo due partite Ah certo Dovevamo Era cominciata una partita Dovevamo andarcene via subito Mico Vabbè Tranquillo La faccio io Perché comunque Con i livelli iniziali È da smart È da stronzi Però ci sbrighiamo Almeno Quindi Prendo in mano La situazione Il problema Qual è Che mi ritrovo contro Una squadra intera Di smart Ma a livelli assurdi E quindi la partita Sì è finita veloce Ma perché gli altri Noi tipo rottissimi Hanno vinto in 17 minuti Che bravi Marco Lol Che storia L'olsa 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 Quando vuoi fare lo stronzo E ti mette contro gente Allora Chi inizia? Inizia Due pippo Tiro il dado Di chi inizia? Come All'inizio Bisognava pescare Vero? Poi si buttava Ah Inizia due pippo Incredibile L'avevo detto Allora Qual era il tasto del pesca? Tasto destro Drow Aspetta Ecco perché Allora Brevemente Le regole Ogni turno Si deve per forza Pescare Abbiamo delle carte in mano Che hanno diversi effetti Quelle senza effetto Possono essere combinate Tra di loro In modi Che vedrete in partita Perché non lo voglio Di spiegarveli tutti E se uno pesca Un gattino Esplosivo Può o defusarlo O perdere la partita Se lo defusi Con una carta defuse Lo rimetti nel mazzo Nell'ordine che preferisci Senza che gli altri vedano Ogni turno Si deve concludere Con una pescata A meno che L'altro Non giochi Uno skip Uno attacco Io passo Si 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 tocca a Aran Ok Allora Io Mi gioco due E ora devo decidere A chi prenderla Verò? Ehm Adice Eri tu la master Ma non erano De diverse Scusate No 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 Due uguali Due uguali Tu devi pescarla In blind Da un altro Ok Gira le dado E tanto comunque Non si vedono Eh no Però quando la tiro Si Vai Vado Si I am the plane Marlo No aspetta Io non ho finito No Te sto mettendo No Ok Boom Ma fa fa culo De picco sa De picco sa Ok Quindi ora ci dobbiamo Si Ci dobbiamo blindare tutti Oh mio dio No Aspetta No aspetta Questo è il defio Come si gira la carta? F Con F Gira la carta No Non quello Que Ok Basta un poco Di cercello E la pillona Va giù Marco Ok Potete Debra informarvi Che c'è Dato Marco Hai Hai preso la stessa roba Che ha preso Alice? No Il sole Sono Mai Magari 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 Sì Ma Lo sapete che ho una passione Per il sole Io potrei stare anche un'intera giornata a rotolare Perché tu lo odi il sole Giusto? Io pesco Io potrei stare un'intera giornata Al sole Con un ombrellone Stare in a crema Tocca a me Ma porca Se volete vi passo Se volete metto sul gruppo Telegram Una foto di mi ha abbronzato Marco ma stai parlando di te abbronzato ai dieci minuti? Io ho già fatto un turno Sì Ho giocato anche io Non so cosa significhi Ma lì c'è anche cazzo Sono andato Di teado Salvate il di teado Adesso mi metto a guardare La Andrà live Le carte che pesca d'apro Marco io mi metto a guardare Non posso dirlo Un cercello shiny Ricordate quando su x e y C'era il bug dei pokemon Monocronatici In bianco e nero No non lo ricordo Eh sì su x y C'era questo bug Che potevi trovare Si buggava l'animazione E quindi pokemon era in bianco e nero No era rarissimo Era rarissimo Perfetto Vai cerciollo Devi giocare due turni Sì Ciao Aero Ciao Alberto Canterino Ciao bari vecchio Saranno mica dei negligenti Con la r Con la r Shuffle Farò 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 E adesso ne pesco due Una Madonna santissima ranna No No te la dava passata No te la dava passata Per tanto Ok Yeeeh Ale 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 Io te lo consento Ma perché sei te Eh Ma leggete che cosa C'è chi non può leggere Sapete Ma non so se si può Ma non so se si può Passare che con la C Si dovrebbe scrivere No no E con la G No no E con la C E con la G No Alice L'arte di chi Comanda i morti E con la C O con la G Necro Necro ragazzi Io sempre metto Necro Necro ragazzi Dal greco Necros Necropoli Necropoli Una necropoli Necropilia Necropilia Secondo me si può dire In entrambi i modi Invece No No Si la La ne La necromanzia La necromanzia Ok google Ok google La treccane dice che esiste Si dice Necromanzia O necromanzia Allora Necromanzia Un calcolatino La necromanzia O necromanzia E' una forma di divinazione In cui i praticanti Cercano di evocare Spiriti E defunzi Beh allora Dado ok Scusa dice Non lo faccio più Bravo Chi tocca A me A aggiungere manzia Dopo Nebromanzia Anzi Anzi Esatto Ne ha pescate due Infatti Non capivo perché Ah Sciaffola No Mettiamo 70 Quella buona No Vai 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 Due spioppo Allora Se io Vedo E mettere anche un po' di musica di sottofondo Perché si Si dai Non posso mettere niente coperto La coperta E allora Schifo E' sicuro di non pare A 23 carte Nella fine Ormai l'hai fatto Ragazzi mi prende il rischio E sono un idiota del cazzo E intanto non approfitto per mettere L'overlay con Spotify Ragazzi per favore Vi brandate Sono cadute teste Sono cadute teste Facciamo copia E facciamo riferimento No Non volevo questo Ma sono contento comunque Cosa Dado Posso Deblend for Potete Deblend for Darvi Potete Deblend for Ciao Armonia Ciao Armonia Ciao Ma io non volevo questo Ok Vabbè senti Ricatturo la finestra Marco Con chi sei stato Particolarmente stronzo Dimmi Con me Marco Con Sono stato Molto stronzo Oggi Con Una Non avremo l'overlay Che mi ha Picchiato Mentre io volevo solamente Mangiare Non lo so ragazzi Oggi 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 Mi dico ragazzi Ha mangiato Un 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 ramachi Con il tonno Solo che il tonno Era nero Marco Hai qualcosa Eh Era un tonno incinto Era un tonno Ah La rana ha perso La prima a cadere È stata deciso Adesso Ma l'hai mai detto Tocca a me Vai signorina Squisi Oh porca puttana Aspetta Virgola Marco Non farlo Ah ma c'era ancora in mano Scusa non si staccava È quello che si chiede Marco Ogni volta Solo che Ma porca di quella puttana Ma si vede una cosa Io ero solo stronzo con Alice E non con Run Marco Alice Ciò che tanto è bene Ma perché sei stato stronzo con me Non lo so Dice in realtà Non volevo farlo con Dato Avevo sbagliato i numeri Eh ho sbagliato Ma ma fa culo Ma che cazzo Non deve essere io La sfigata di merda Cosa te Signor Due Sono la necessità Di chiederti una carta Marco Come funzionava? Che tu copri una carta E scegli una carta Dai No no Mi sa che qua dice che Of their choice Scegliete Copri la Roberto Spadoni O no Un altro No Hai luto a mazzo Cosa? Ditemi A prima di scendere sotto le 20 carte Sono cadute due teste Non ha senso E' ingiusto Amici poi ditemi se i volumi sono bilanciati Sia la musica sia loro Dai pesco anch'io tranquillo Vai Dai pesco anch'io tranquillo Vai Due pippo Che cazzo Il volume di pippo Che Facciamo È al 200% Non posso farlo Cosa posso farlo? Cazzo Eh pesco Vediamo Non farlo Non farlo L'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto L'ha fatto E io posso vedere tutto Che bello Quale sarà la strategia? Io mi cieco Marco è di Praga Marco beve E anche a poco È vero C'è un amico di Praga E dice che lì la birra costa praticamente meno dell'acqua Meno dell'acqua Sì ma anche in Germania Ma due piedi no Ti fai tipo mezzo litro con un euro No ma dico Se fai così Poi si mischiano tutte le carte Eh va bene No tu non le puoi mischare tutte Tutte le altre carte Dovranno rimanere nello stesso esatto posizione di prima È uguale Non è uguale Tranquilli Non è un problema Ma che cazzo Marco Io speravo che la lasciasse un po' Ma va Ma no Scusate Avevo visto male Allora Io Chiedo un favore Al signor Blantini Ora non si sente la musica Dicono No l'ho rialzato Chiedo un favore To Aspetta Cosa qui A lei Se la goda To Guarda Marco Dammi una carta Per favore Anzi no Con tre uguali che si faceva lì Tre uguali Li chiedevi Dammi il tuo defuse Dammi il tuo See the future Dammi Marco Dammi il tuo Defuse Non ce l'ho Vaffanculo E allora Pesco Haha Vai Due pioppolo Ciao Babone Ciao Babone Deppi Porro van bene Volumi E Lo cazzo L'ho messo Ah l'ho messo Giù Sono finite Sono finite le carte Scusate Come sono finite le carte Eh si E manca un gatto esplosivo Eh era falzato Sto partito Bravissimo Scusa Dovranno essere quattro gatti Si Erano quattro gatti Ok Adesso ce ne dovrebbero essere due Scusami Marco Non è che hai un gatto in mano No Chiedo per un amico E allora non ha senso Non è possibile che sia sparito questo gatto Guardo sotto al tavolo Magari è caduta Sotto al tappeto Non lo so Guarda sotto al tappeto Guardati in tasca Dado Dammi il 5 Abbiamo vinto Perché c'ho 14 gatti De Pippo De Pippo No De Pippo ha preso il mazzo No De Pippo ha preso il mazzo Aspetta me ne rimesso Me ne sono rimesse in mano io Adesso c'è un problema Io opterei per ricominciare Senti si ricomincia Vaffanculo Dado abbiamo vinto Da 1500 Sì No ora non posso Il vincitore morale Mi ho schiaffeggiato Grazie Alice Mi è piaciuto tantissimo Dov'è l'immagine? Ora arriva Ora arriva Ora arriva Sono le mie cose I miei disegnini Eh no I disegnini sono andati Ma che palla Ma qualche puttana no? Va bene Metto indietro Non posso fare indietro No va bene Che ok Ah rimettete tutte le carte in mezzo I defuse da una parte I gatti dall'altra Come? Cosa? Che cosa? Chi è che ha avvocato un nemesis ragazzi? Eh fermi! State proprio lì Fermi! Per favore Alice 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 Io devo dividerle Quelle carte Ah scusa Oh no Ok Google Come bestemmiare il live No Contro zeta Non funziona contro z I disegnini non ci sono Perché Marco fa casino E che cosa vuoi a me scusa? Stai zitta È colpa tua Facciamo quell'NSFV Sì Con le carte Di francesi Di francesco? Oh io vedevo le carte francesi ragazzi Oddio che schifo i francesi È vero Alice Ricordiamo tutti i francesi Ci stanno guardando E ci fanno schifo Ragazzi 1,2,3,4 Ragazzi tra qualche giorno esce l'album dei Sabaton Madonna ma i Sabaton fanno sempre Hanno sempre un singolo nuovo Hanno sempre un album nuovo Hanno sempre un coso No sono tre anni che non Esce un album dei Sabaton Marco perché dice le fesserie? Ho in mano una carta che piacerebbe tantissimo a Luca È un gatto col pisello Tira il dado Dell'oppressione Tiro Capitalista Vai cercello Guardate i francesi fanno il formaggio buono Che schivai Lampona Vedi Marco sono tutti d'accordo con me Che schiva francesi Io pesco una carta da Marco Gira le please Oh no i Bikini Cat no Un attimo Aspetta Aspetta No Marco io non aspetterò oltre Esca una carta Ok puoi fare Dicevo ragazzi si sente la musica sotto Lampona fai schifo Lampona fai schifo Aia Il sento del rosicchio Ah grazie Dai porca puttana un quinto di voi Anzi un sesso di possibilità C'è un mortacci tua Ragazzi c'era Ragazzi tra i termini bannati C'era I francesi fanno schifo Su serio? Sì Ah ok Allora tocca a me A lui No devi pescare Lamp Ah si scusate Aspetta Amici per favore mi date del feedback sui volumi Ok vai Draw Ok vai Ah ha dato un feedback sui volumi Ah Marco ora ti scopro le carte Ti ho dato del feedback sui volumi Alice No scusate Ah si Sì Proprio lui Quello grosso e duro Non è duro E' nero in questo caso Ah Oh no Alice Alice ho un favore Mi spiace ma era proprio nero Ragazzi amici della chat mi Mi odiano perché non mi danno feedback sulla musica sotto Se si sente oppure no Marco Dei pes Blendatevi Ma non c'è bisogno che vi prendo Quante carte posso vedere scusate? E devi rimetterle in ordine No Mirac E' giusto Non va bene Ok Ti metti in ordine Ora 1 E 2 E la testa me la tengo Sì Tocca a Teheran Tocca a Teheran Ho capito Tocca a Teheran Che è una città Pippo mi dai una carta di tuo gradimento Per favore Sì certo Ci mancherebbe Da lei il Diffuser così ne ha tre Sì A lei Vai Ok Ok Da lei il Diffuser così ne ha tre Mi ha pescato un altro No se ha tre Diffuser Lo smetto di giocare ragazzi L'ho già fatto Vai Arish Vai Arish Nero 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 All'attacco Salvini l'ha rimandato a casa sua E io non ce l'ho più Schifo Marco adesso è inutile che fai il giù, dai il bacio non te lo meriti Alice me lo dà un bacino Mi dà un bacino I am the eye in the sky Ma tocca a me, che cazzo fa questa? E' pazza? Mi avete detto vai Alice, comunque ho un bikini cat Grazie Alice questa canzone no? Era quella che stai cantando prima o ho detto una cazzata? Si, I am the eye in the sky Sai chi era il cantante che la faceva? Marco Cercello Era il fonico dei Pink Floyd Oh mio dio Quello che gli asciugava i capelli E ho fatto una canzone con le parole Che dura meno di sette minuti Beh, gli Alan Parson Project Signor Blandini è il suo turno Eh Marco scusami allora rifallo E lo rifà, e lo rifà, e lo rifà Oh no, ma il pisallo della palena questo No, è del gas No, è vero Play game of a whale boner È drittissimo Non è il pisallo dell'elezione Eh, non ho capito È il concetto di elezione È il concetto di elezione È il concetto di elezione Il TST Ciao Luca TST Ciao Luca Così impari ad offendere il mio amico Marco Il mio amico Marco No, hai l'altro che il tre No, l'ho dato a te No, l'ho dato a te Alice Ma tanto io ragazzi Sì, ho detto Sì, ho detto che, ti ricordi Come ne ho detto Quando hai pescato la terza carta Ho detto Ah adesso ne ho tre E quindi secondo me Ne ho ancora due Cioè ne ho ancora una Comunque gli amici Faccio così Sei intricatissimo Non ho capito Vai Io ho sciaffalato Marco devi trocarti Delle stesse droghe Che prendo io Grazie, Alice Non devi sciaffolare Io no, l'ho fatto apposto Ma sciaffolerò Bravo Che vuol dire io non l'ho fatto apposto? Che vuol dire l'ho fatto apposto? Ho fatto apposto a sciaffolare E non dovevi sciaffolare Non devi farlo, Alice Ran, non va affatto Io no Vabbè, ho sciaffolato io E vaffanculo a chi dico io Proprio lui Quello mino lì Mastro lindo Mastro lindo, ingratatore Se voi due vi blindate mi fate un favore grossissimo La magia è il suo bene Signor Blandini, grazie Eh, scusami Non trovavo la B Però è andato in bagno Vado in bagno Vado in bagno Prego Andati per non guardare neanche la tua Ho chiuso gli occhi Non guarderà la Signorina Signorina Squeezie Tocca a lei Oddio, scusatemi Si addormenta Beh, no Squeezie c'è, Dorr Stacca la Ah già è vero Devo togliere Menefuso E può vedere tutto 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 Il prossimo Pasto Costa Alla Pesto Io ho paura di Dato Marco Lei è un cretino Vai Lampiana Alice Mi ricordi Cosa Due carte diverse Tre carte uguali Poi No Due carte uguali Tre carte uguali Cinque carte diverse E cosa fanno? Allora Due carte No Solamente Solamente le uguali Le diverse Quelle diverse Peschi dalla pila Degli scarti Oh mio dio Ma è fortissimo Amici Vi ricordo Come al solito Quando siamo blindati Dite no Fate come Topolino Dite no Alla droga Per favore Alla droga No No a Balsoie Esatto Magari c'è Gigi La grumeria Ehi Posso? Marco e Luciano Ho detto no a Balsoie Conosato Mamma e Troia Marco Cercello Ho detto sì Al seme Al semigallio Vai Due Piero Ah ma avete ricominciato? Ma sti grazie No so Mi pareva che lì C'ho destretto sì Sì Io c'ho voglia Di Chiedere un favore A Dato Marco Cercello Che favore ti faccio Un favore Magnifico Gira di carta Iora Draw Vai Lampianzi Adesso Ho pescato La bomba Ma non l'ho detto Nessuno Amici quanto sono Stupida Dittemi Che sono Allora No amici Non dire queste cose Orribili Sul tuo conto Dato guarda il futuro Io non posso far vedere questa carta Quindi qualcuno la copra con la mano Per favore No Cosa fa vedere? Ma non la fa vedere Posso premere io? Oh no è terribile Che cosa brutta? Due Tre Ma che cazzo vuol dire? Scusatemi tanto Cosa stavano vedendo I miei occhi da elfo Tre Due Uno E schifo il turno Porca puttana No Dato Uno te lo pigli Oh no Due pippo mi fai un favore Sì Oh no Dato è zitto Lo riguardo me No Devi solo pescarlo Dato Fermi Non giungiamo alla conclusione affrettata Per favore Allora Io ho tre carte diverse Ci sarà qualcosa che posso fare No? No Voglio esplodere Mostraci di esplodere Allora No Io faccio una cosa Cedo questa carta a Marco Come scusa? In amicizia Grazie mille Dato In amicizia Ega boom Tocca a me Allora An Alice Ale Ale E la Mnaggia Che cazzo Scusate La mannaggia La puttana La importatevi cazzo Cazzo Schettino Amici da chat Preferite vedere Le carte che tutti hanno in mano Oppure preferite la blind Amici ho una domanda da farvi Amici Ma se io pesco Poi posso fare azioni? No No Pescare è l'ultima Carta di tutti Di ciocchetti Voi altri cosa dite? De Piero Tutti Tutti Ok dai Mettiamoci Game Master Cosa? De Piedi Mettiamoci Game Master Ho capito una cosa brutta Marco Game Master sei tu Non io Chi tocca? Ah due Pino Ah no Tanto so che Alice è cattiva Adesso me ne vado io Non è vero Marco Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho vinto Ho trovato il quinto pezzo di Exodia Addio amici è stato bello Non è vero Marco Non l'ho messo io Non l'ho messo io Non è vero Alice ti credo Marco fidati della mia amica Alice Perché secondo me l'ha messo lei No io mi fido di Alice So che non l'ha messo Io vado ancora attacco Amen and attack Alice è zittissimo Alice hai una bella carta qui che potresti usare Ma io non do consiglio a nessuno Quindi sto zitto No devo tenerla alla fine Ah non è vero Tanto muoio adesso Beh prima sciaffolo Alla stessa carta È difficile dire che non sia stata la squida Però mi piace quando mente Ah vedi Che culo Alice Alice mi sono fidato di te però eh Ah Ehi E sei dicendo che tocca a me Sì Allora io ho una smisciatina Guarda guarda Una Due E tre Che storia Che storia Che storia Un Deo Pimpo ma sei pazzo Non l'ho giro Deo Pimpo Dai si rimischia Si mischia si mischia si mischia Eh sì no Si mischia va a farsi fuori tutta la strategia Si mischia Aspetta Troppo tardi Ho una pesca Ero pesco Ah non c'ho il diritto di rivederne a tre No Beh sì 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 No ha fatto la cazzata No no ce la ce la ce la Non ho capito Non ho ragione Ma non girarla Due Pimpo lo smetti di girare le carta in mezzo cazzo Questa era tua Due Pimpo Allora Si tranquilli Si Ma quell'exploding kitten che sta lì scusate Eh si l'ha pescato Due Pimpo Ah Lì pesca due Pimpo Va bene Blindatevi Blindatevi Chiudetevi in caso E' bello che prima Due Pimpo aveva detto Questa l'ha vinta L'ha vinta E' vinta Vai For the power of the holy king of trust The holy For the glory of Dundee To win this epic battle Questo buco di culo epico Vai Vai ha detto vai ha detto vai Tanto Trump E' detto Trump Trump Posso chiamarti trampiona Chi tè c'ha consente Non è vero che ce la fa papiccina Chi tè c'ha consente Ciao due piedi vai Senti perché il 50% delle carte che rimangono Potevi sciacolare Mi sento Cazzo lo sciacquole lo sciacquole Prego prego Vai run I am Depay Right Aspetta che devo girare Dovrei smettere di cantarle in quel modo E che cazzo E ma porca troia no cazzo No Alice puoi bestemmiare Dopo la live per favore Ah lì ce l'ha dato una carta inutile Il taco cazzo Ah ho sbagliato Scusate no Oh no ha fatto carta vince e carta perde No No era questo Sì sì era quello Ok Portiamola insieme amici Ragazzi segnatevi questa data Aspettate non è che si è fatto casino e questo qui non è un'esplos... Ok sì Ok sì Sì Ah io non lo puoi fare Se esplosa io ho vinto con un defuse in mano Oh mio dio amici È il giorno più bello della mia vita Sì ma come va a pescare il defuser pro Alice? Era la penultima carta C'era un defuser e un explodente kitten Ma perché c'è un defuser che gira a cazzo nel mazzo? Sì Sì No ok non mi ricordavo Amici segnatevi questa data perché Alice ha vinto Ho vinto E ho vinto E io ho appena sbagliato Ma giocheremo con il mazzo regolare Perché non voglio di... Cos'hai le carte? Duarte marlenne Cos'hai? Marco Dei marlenne Marco Ti spaccavo la faccia Grazie Prego Quel giorno spera di essere vivo No no Sbagliato Oddio La mia testa Marco la tua testa di call Uno Ma perché me lo fa tutti? Vabbè dai sti cazzi sono Eh no anche quelli che non giocano Ah perché io sono il game master ancora Ok Marco e Dado è il game master Marco non posso dire cosa sia Ragazzi ho un botto di speech Alice non riesco Dado 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 ma che cazzo Non riesco Non riesco Cosa stai Alice per favore Alice Dado Madonna è il comando fagiolini da quanto Marco un grosso È un groschen E ho delle carte bellissime Una Bella dell'altra Schifrca Sì Posso dire di avere una mano di merda Dado se non te la curi E se non ti geroni Gironi di Champions Tiro del dado Provai tirato il dado Tocca all'ampione Briocio Cercella sessuato Ma come lo sessuato Guarda A me piacciono le vulve A me piacciono le vulve Land attacca Ma perché attacchi a primo turno Io non No 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 E ha pescato Hai pescato due explodi Minchiai no Hai pescato due explodi Dado Dado Per favore Dado Dado Ti prego Dado Ragazzi Questa live La porterò avanti Oh no Questa qui è la carta incriminata Oh c'ho preso Che bello che hai pescato i due Quindi si dica Questa è fico Questa è ficca E questa è la mia Che cazzo fate Nessuno l'ha vista Mi muto un secondo Mi muto un secondo Adesso ragazzi vi dirò Quello che sta dicendo Dado in questo momento Perché non lo sentiamo Ok Se volete mi faccio sentire Solo da voi Mi faccio sentire Solo da voi Mi faccio sentire Solo da voi Questo unicorgio Era molto carino Ragazzi Sapete che questo unicorno Che volava Ed era molto rosa E aveva delle ali di farfalla Aveva delle ali di farfalla All'unicorno Allora Sì Blindatevi però Scusate Da cercare La scelta Si acceda Con gli assi di legno Cosa Tavoletta Tavoletta Tocca alice Oh mio dio Tocca a berenice Vado Sì Dado Marco Alice esplosa That's the way Ah già Devo buttare The fuse I like it That's the way I like it Ok Vai Man and machine And nothing there In between The flying circle Man from Prussia Ehi Lampona Grazie Che cos'è Un favore Sì Aspetta La cosa Fammi un favore Ehi Lampona Grazie Sì C'era l'altro Guarda Ehi Lampona Grazie Ehi Lampona Dammi una carta Grazie Grazie No 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 Pesco Ma che cazzo Un po' ci voglio Cazzo Dovevo stare L'altra carta Merda Blindati Non è possibile Marco Però Mi dice Lo sfigo Lo sfigo C'ha tre cazzo Di favore In mano Dai No uno me l'ha Dotto run Dai Deblendatevi Grazie Mi toccare run Posso Deblendate Sì Marco Se l'hai fatta No Non sono così Stronzo Ma Bene Lo schifo Io mi rifiuto E schifo Vai Alice Scusa Alice Perché Marco È prevedibile Quanto la diarrea Dopo io che bevo il latte Marco che cazzo Era per tardo Davvero Basta però Era per tardo Poi lo becco io Da dove mi ha schifato Ha sbagliato A metterlo Ti prendiamo Marco Perché fai queste cose Pazze Fazzerelle Fatto No ho sbagliato No ho contato malissimo Scusate Oddio ho fatto una cazzata Alice non so la matematica Ah io non so leggere Posso Deblendfoldarmi No 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 scusa Oh no Ron ha visto le carte Adesso sa il futuro Marco nel futuro noi due Ti sposiamo Facciamo sesso Con le nostre rispettive ragazze Con le nostre rispettive ragazze Ah ci è rimasto male Ok Deblendfoldatevi Se lo posso Vai Deplipo 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 Non penso fosse Non l'ho messa io quella lì Non penso che sia da contare Non l'ho messa io No tranquilli No no vai vai Però è vero Come? Ma dice non è Cosa? Cosa era? Che i dati si merano? Ciao Simone Ciao Simone Vai vai andate Andate a fare in culo Ma lei senza saperne leggere né scrivere Eh si Ah Pocca lampa Marco perché pensavi ti odiassi? No no Pensavo di lì c'è io A posto Marco perché pensavi ti odiassi? No io ero messa per Marco Ciao Riccardo Lo sai che l'hai messo per me Infatti ho schifato Ciao Riccardo 08 Ciao Riccardo Ciao Riccardo 08 Ciao Io guardo il futuro Run mi dispiace Mi ha rotto in culo È un rotto in culo L'ho preso da run quello schifo Il culo Ah ok Allora io guardo il futuro 1 2 Cosa ho capito dato 3 2 E porco quel Ma che culo Riccardo Ma che culo Io adoro la Grecia Cos'è che ha Riccardo? Stai in Grecia? Stai lui Ah porca troia Poi mi saluti Siamo in 5 Riccardo 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 Lo saluto io Perché lo invidio Stai zitto Marco io non ci sono stato Perché non sono ricco Serve silenzio Serve silenzio Sto pescando Devi pensare alla pesca Pesca di beneficenza Marco porca miseria Trocati di qualcosa di meglio La prossima Vai Marco Vai carta Scelgo te Era buona Vai Sì Vai Era buona Vai scusi Ah già mi faccio vedere Tutto Allora Ah una casa a 5 sede Con treplici nella puttana Era buona anche quella lì Che palle Io mi feci due settimane a Paros Sulla prima volta Delle escort lì Che ti fanno i couponi Ce le hai Riccardo Riccardo 08 Sei venuto qui per flexare E basta Riccardo se vuoi flexare i soldi che hai Dona Dona Guarda C'è questo bottone incredibile C'è chiedissimo Con cui puoi donare Non fate Non fate Non fate Ti vivono il mio amico Riccardo Marco Mi faccio Che bella Che bella Che bella Che bella Ah Vai Alice No No Costiglione Piemonte Cosa? Costiglione Piemonte Eh oh buone Dieti voi Un'altra Sono stata Castiglione Piemonte E anche No Allora se non sei venuto per flexare Porta rispetto per noi poveracci Vai due piedi Marco No Lo usi così seriamente Lo usa così anche lui seriamente Va bene Ah Lo cazzo l'hai messo Non lo so È lì in pezzo Non fate così Chi ha fatto niente Ma si scherza Vai tranquillo Ma si Stai tranquillo Pesco Generalmente Se ti prendiamo per il culo Significa che sei già a buon punto Esatto Per esserti Per farti voler bene Però donna Ragazzi Addio Vai Alice Sì Ragiate Ho pescato belle delfine Riccardo Spiega il tuo ultimo messaggio Per favore Ragiate Cosa ha scritto? Cosa ha scritto? Dei ragiate Sai che ti berdi C'è gente che pagherebbe Per darmi i soldi Dei ragiate No ha scritto ragiate Ragiate È come i muli Ho detto un'altra cosa E va come i miei così Sono i muli Veragliano Chiedere da far che Fatto vai due piedi Amica Siamo la lega Grazie È follo Riccardo Ragazzi Non sto capendo Quello che sta succedendo Pesco 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 Riccardo Noi parteciperemo All'attacco Adare 51 Però Sì Noi partecipiamo Sì Se non leggete Vabbè Allora mi apro Io la mia chat Merda Perché Ha chiesto se secondo noi La faranno davvero La chat Allora 51 Ah lo faranno Cioè Non è che lo faranno Lo faremo perché noi saremo I naruto runners Sì 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 Io sarei là in prima linea Forse Alice farà Il lanciatore di pietre Non lo so No no Alice farà il berserk Come? Ha detto Alice deve fare il berserk Ah si vive la mostra Io non ho detto un cazzo Io non ho detto un cazzo Alice 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 ti hai detto Ti simuliamo la mostra Mi dà dell'energia assurda Dove andare là dietro E urlare Votatimi i miei alieni Alice devi blind art Ma eh scusate Ma poi non è io Alice Ha detto Più poi che guarda le carte Leggine E sta lì Interessata a vedere Chi so cosa sta facendo No Non stavo neanche guardando Stavo cercando di capire Tutto il tuo sprolocchio mentale La tua segamento Ciao pone Ciao pone Proprio qui Adesso dovevi arrivare Non mentre stavo parlando E sono perso il discorso Alice stavo dicendo Stavo raccontandovi Come tu farei da berserk In quanto non ti drogherai Di Red Bull Entrerai a cazzotti Sulle mura Allora Punto numero uno Non posso drogarmi Di qualcosa di meglio Punto numero due Perché berserk Perché Allora Alice Cos'è successo E sarà fatto un evento Su facebook Marco Piglia questa carta di merda Sì Non avevo capito Allora lo spiego io Che non sto giocando E sono creato Alice Un evento su facebook In cui si organizza Una Diciamo Una Visita di massa All'area 51 Il 20 settembre Con la didascalia Non possono fermarci tutti A parte il fatto Che possono Benissimo Perché è una base militare Si sono divisi In tre schieramenti Divertiti Due piedi No Marco C'è la carta per favore Ah Dicevo Non posso Non c'ho Ma faffanculo Ok Dicevo Alice Ci sono tre schieramenti No Ci sono tre schieramenti Ci sono i Naruto Runners Che è presente come corre Naruto Con le braccia indietro Ecco quelli Che vanno dritti verso le mura Che sono le esche Praticamente Si dirono Che a un certo punto Si splittano Così da dividere Ci sono I rock throwers Che sono letteralmente Lanciatori di pietre Che combattono Io devo fare La lanciatrice di pietre Aspetta E poi ci sono I berserk Che sono quelli Che vanno dritti contro le mura Si drogano di monster Lanno dritti contro le mura E la spaccano a cazzotti Ottengono più dieci in berserk Vaffanculo Porca di quella puttana Ci sono Sono morta Un milione di adesioni Ora Un 1% si presenterà davvero Sicuramente La Lui ci sarà da ridere Quindi cittomila persone Sì Ma perché proprio Nell'area 51 Cioè Per portarsi a casa Gli alieni Eh Cioè vogliono prendere gli alieni Avere un piccolo alieno Sì Ok Va bene Ci sta Ha senso Ecco Se vuoi tanto bene ad una cosa Vado a avere sempre vicino Ma no Riccardo Sono intelligentissimi Non lo facciamo Noi andiamo là Il 20 settembre Credo che De Pippo abbia appena perso Ho vinto? Hai vinto? Ho vinto? Ho vinto? Marco Hai vinto? Cerchio Chico Cioè sono coglioni Beh ma sì Sono coglioni Però io non capisco perché dovrei essere una lanciatrice di pietre Perché non lo so Non ti ci vedevo a correre come Naruto Alice Beh scusa Tado Ma intanto non devi mettere mano alla mia vita privata Ok Se non ti permette mai più Di assumere la mia corsa Assolutamente Di assumere la mia corsa Assolutamente Alice Poi ti dico una cosa Oh mio Dio no Quando mi devi dire una cosa dopo Sì 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 Assolutamente Amici Io direi che possiamo anche finire in anticipo di un minuto Riccardo ma sarebbe bellissimo Vuoi mettere? Cioè il 2019 sarebbe la storia come L'anno in cui il popolo si è rivoltato Contro il governo americano Allora in partenza ci sono due cose da dire Allora la prima è What a time to be alive Best timeline assolutamente Best timeline perché insomma Io dieci anni fa Se non mi avessi detto Io che sono nato comunque nel 95 Quindi mi sono vissuto Gabbissima po' di volte Ritorno al futuro Vabbè Hai due o quattro anni Dei pippo cosa vuoi Fossi dell'82 E se tu dieci anni fa mi hai scritto Cosa ti aspetti nel futuro E avrei detto Ah scarpe autoallaccianti Non lo so Solo perché hai visto Back to the future Ma la smettete L'hai visto Ero picco Dieci anni fa Avevo 14 anni Alice non è nessuna Delle tre categorie Lei è la fusione La fusione La fusione Il lago di fusine Che bello il lago di fusine Ragazzi Marco asfaltato Ma lì c'è sempre cattivo con me Non so perché No Marco non si chiama cattiveria Si chiama giustizia Vabbè Ragazzi Ormai Che vi devo dire Ormai sono diventato Il culacciolo Il culaccio Il culaccio del salame Basta ragazzi Io direi di fare un raid Allora si aspetta Perché Volevo dire anche un'altra cosa Però mi sono scordato Quindi non la dirò Lo sai uno streamer Strammer Ha fatto una live Che organizzavano Questo è stato Quasi messo Alla pena di morte Sai chi altro È stato messo Alla pena di morte Quelli che non usavano Le virgole Dai Riccardo ovviamente Si scherza Qui dentro Così Si trattano a quello Allora Loro scherzano Amici Si fa un raidone Chi raidiamo? Si rada a Crostantin Si dai Si rada a Crostantin Ma no ragazzi Non sono più Non sono più mod Marco lo faccio io Non sono più mod Che cazzo ne so io Poi ti rimetto Si rada a Crostantin E gli si dice Tutti nella area 51 Per favore Corri come Naruto Mi si dice questo Quindi mi raccomando Ci vediamo da Crostantin E ci vediamo domani sera Come tutte le sere Dalle 22 Alle 23 Ciao a tutti Ah già Ringraziamo tra l'altro A Ketty per la sabre Galatasquisi A Ketty per la sabre Galatasquisi A supporto per la donazione Ciona E a Riccardo per il follow Ciao amici Ciao Buonanotte Grazie